Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon martedì 15 maggio, una giornata quella di oggi contrassegnata dal sole ancora una volta qui a Torino, qualche nube a dire il vero l'abbiamo avuta in mattinata e continueremo ad averla anche a cavallo dell'ora di pranzo ma la giornata è tutto sommato serena, splende un bel sole anche abbastanza caldo, le temperature massime saranno oggi nell'ordine dei 21 gradi circa nelle ore centrali del pomeriggio, è possibile in serata l'arrivo di un po' di vento da est, un vento che abbiamo iniziato ad avvertire anche questa mattina. Diamo un'occhiata adesso alle notizie di viabilità cominciando dalle segnalazioni riguardanti gli autovelox posizionati oggi in città e li troverete nei corsi Grosseto, Moncalieri, Orbassano, Massimo D'Azeglio e anche in lungostura Lazio. Dopodiché oggi è martedì quindi cominciano anche le rilevazioni con telecamera alle infrazioni al codice della strada, le rilevazioni che proseguiranno fino alla giornata di sabato sulle vie Principi d'Acaia, Freius, Monginevro, Dinanni, Cibrario, Sandonato, Nicola Fabrizi e Nicomede Bianchi. Altre segnalazioni sparse, vi segnalo che stanotte da l'1 alle 3 sarà chiuso sotto passo di Portapalazzo di Piazza della Repubblica per le operazioni di pulizia meccanizzate che fino alle 18 di oggi avremo dei lavori in particolare nella fascia dalle 17 alle 18 in via Rossini all'angolo concorso San Maurizio. Vediamo adesso alcune notizie che abbiamo tratto dalla home page del sito della città per voi. La prima riguarda un appuntamento che avremo tra due giorni, si tratta della giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, una giornata che intende affermare anche da parte della città l'impegno di tutti contro ogni forma di violenza nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisex e transgender. C'è un fitto calendario di appuntamenti che potete consultare a partire dalla notizia in prima pagina sul sito della città. Un'altra notizia è quella relativa invece al progetto Torino Porte Aperte che si è già cominciato nella domenica che abbiamo alle spalle e continuerà questa domenica il 20 di maggio e anche la prossima il 27. Nell'ambito del progetto La scuola adotta un monumento, 45 scuole torinesi apriranno gratuitamente con visite guidate fatte direttamente dai ragazzi alcuni musei, alcuni monumenti della città. Il programma completo con l'elenco anche delle località lo trovate a partire dalla notizia sul sito del progetto ITER. E infine chiudiamo la parte relativa alle notizie con scrittori in barriera alla storia continua, un progetto di urban storytelling, di incursioni di scrittura urbana, così si chiama, realizzato dalla città di Torino in collaborazione con il laboratorio creativo per quanto riguarda il territorio di barriera di Milano. 20 scrittori in questi mesi hanno immaginato le trasformazioni del territorio di barriera di Milano con dei racconti che sono stati pubblicati sulla stampa. Questa settimana si chiude la pubblicazione di questi primi racconti ma comincia un concorso che si intitola Continua la storia, aperto a chiunque voglia interpretare con una propria forma di prosa le trasformazioni del quartiere di barriera di Milano. Tutto quanto sarà da presentare entro il 9 giugno, le informazioni le trovate sul sito di Urban Barriera. Bene, vediamo adesso alcuni appuntamenti selezionati per voi per il pomeriggio e per la serata, cominciando dalle 18 e dal circolo dei lettori dove verrà presentato il libro Cittadini a metà come hanno rubato i diritti degli italiani. Un libro edito da Rizzoli, scritto da Chiara Saraceno, editorialista di Repubblica che indaga l'inadeguatezza delle politiche sociali della Repubblica italiana. Alle 18 e 34 poi un appuntamento da un orario molto particolare ma dedicato ai più piccoli perché in largo 4 marzo prosegue il progetto 52 Fiabe, un progetto che vede attori diversi per estrazione e per provenienza coordinati da un regista che garantisce per un anno consecutivo nelle 52 settimane dell'anno il racconto di una fiaba a settimana. Si tratta di fiabe che provengono da tutto il mondo. Avviene sempre in largo 4 marzo, sempre alle 18 e 34. Ebbene, quest'oggi in programma ci sarà il racconto di C'era due volte il Barone Lamberto, una fiaba italiana che verrà raccontata da Barbara Bedrina. E infine per il cinema, una segnalazione particolarmente di qualità, così potremmo dire che questa sera alle 20.45 al massimo 3 ci sarà la proiezione di Prima della Rivoluzione, un film del 64 di Bernardo Bertolucci che vinse il premio della critica al Festival di Cannes, considerato da molti l'esempio, diciamo il manifesto della Nouvelle Vague italiana, uno dei film che assieme ai pugni in tasca di Marco Bellocchio anticipò per alcuni la contestazione del 68. La proiezione la trovate come detto alle 20.45, al massimo 3 gli ingressi sono i soliti con le valide riduzioni a Iace. È tutto allora anche per quest'oggi, grazie a Paolo Mosso per la messa in onda del giornale, a tutti voi ovviamente l'augurio di una buona serata, ci rivediamo domani alle 12 per la nostra prossima edizione. Grazie.